Tutti, salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. In questo video in particolare parleremo dei disturbi dello spettro autistico. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per non perdere i nuovi video e per rimanere sempre aggiornati nel mondo della scuola. Benvenuti nel canale di Francesco Samani. Insegno da oltre 15 anni e ho preparato centinaia di insegnanti nei concorsi scuola. All'interno del canale troverete tantissime playlist raggruppate per argomenti di FASSO ciclo, concorso scuola, concorso STEM, logica e tutti i video che sono stati di grande aiuto per preparare i concorsi. All'interno troverete anche tanti commenti in relazione di vostri colleghi che si sono preparati grazie a questo canale. Come si fa la diagnosi di autismo? Deve esserci una grave compromissione nell'interazione sociale reciproca nella comunicazione, sia verbale che non verbale che a questo punto si riflette in profonde alterazioni nelle relazioni affettive con le persone. Deve esserci un repertorio molto ristretto, marcatamente ristretto di attività e interessi. Deve esserci un grave ritardo nel linguaggio. Questo ritardo che comporta una insufficiente comprensione crea una difficoltà anche a livello dell'uso dell'io al posto del tu e viceversa. Lo studente ha rituali, fenomeni compulsivi, anche molteplici. Per esempio può perseverare uno stesso comportamento anche attraverso movimenti stereotipati e ripetitivi. Lo studente, l'alunno, ha un deficit di attenzione, un'incapacità a mantenere stabilmente l'attenzione. Lo studente manifesta autoaggressività, talvolta anche spiccata. L'autismo come viene classificato? Allora, nell'ICD10 l'autismo viene classificato così. Allora, il codice è F84.0, il titolo è Autismo Infantile. E la definizione troverete che è un tipo di disturbo evolutivo globale definito da A. Presenza di una compromissione dello sviluppo che si rende manifesta prima dei tre anni. Ricordatevi questa data perché potrebbe uscire anche nella presa elettiva. B. Deve esserci un tipo caratteristico di funzionamento anormale soprattutto nelle interazioni sociali. Quindi della comunicazione e del comportamento che è limitato, stereotipato e ripetitivo. Inoltre, oltre queste specifiche diagnostiche sono frequenti diversi altri problemi specifici. Quali? Fobie, quindi la compresenza di fobie, disturbi del sonno, alimentazione, disturbi dell'alimentazione, carattere collerico e autoaggressività. Nel DSM V è stata sostituita la precedente categoria di disturbi pervasivi dello sviluppo con il disturbo dello spettro autistico. Quindi, nel DSM V, il disturbo dello spettro autistico appare come un gruppo di sindromi. Quindi è uno spettro di sindromi che condividono alcuni aspetti clinici anche con etiologie diverse. Sempre nel DSM V, tale disturbo comprende delle patologie. Quali? L'autismo infantile precoce, l'autismo infantile, l'autismo di Kanner, l'autismo ad alto funzionamento, l'autismo atipico, il disturbo pervasivo dello sviluppo senza specificazione, il disturbo disintegrativo dell'infanzia e il disturbo di Asperger. Ognuno di essi meriterebbe un approfondimento, però in questo video vedremo, insomma, tratterò il disturbo dell'aspetto dell'autismo in maniera sintetica. Altri criteri di analisi sono il deficit della reciprocità socio-affettiva, il deficit dei comportamenti comunicativi non verbali e il deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni. Il primo si manifesta con un approccio sociale anomalo e vi è il fallimento della normale reciprocità della conversazione, quindi vi è una ridotta condivisione di interessi, emozioni o sentimenti e anche l'incapacità di dare inizio di rispondere a interazioni sociali. Il secondo si manifesta attraverso una comunicazione verbale e non verbale che è scarsamente integrata, quindi vi sono anche anomalie del contatto visivo e del linguaggio del corpo e vi può essere anche la presenza di deficit della comprensione e dell'uso dei gesti o addirittura una totale mancanza di espressività facciale e di comunicazione non verbale. Il terzo si manifesta con difficoltà di adattarsi nel comportamento per adeguarsi a diversi contesti sociali, quindi vi è anche la difficoltà di condividere il gioco di immaginazione o di fare amicizia, quindi assenza di interesse anche verso i propri coetani e verso i propri cari e pari. Benissimo, se vi è piaciuto il video vi invito ad iscrivervi, vi invito a lasciare un commento, abbiamo trattato il disturbo dello spettro autistico in maniera più rapida del solito dando le varie definizioni, dando una serie di spunti insomma per potersi preparare in poco tempo anche relativamente a questo aspetto molto importante che può trovarsi nella scuola. Grazie e un caro saluto da Francesco Samani.